Sargoni, Yvon Sibili è leggermente attardato, proverà il sorpasso all'interno non riesce, e vediamo agilissimo, il ton de Sousa rimane dietro a Duccio, Duccio Marsili, il ton de Sousa, Denis Sargoni, Yvon Sibili è, suona la campana, passano in 26 e 96, tenta il sorpasso all'interno Sibili è, ci riesce, rimane davanti, e qui è la volata finale, Marsili, Duccio Marsili, Duccio, 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 si è rifatto da ieri, and the new European Champion 500 Meter Sprint, Duccio Marsili, Duccio Marsili, Duccio Marsili! Duccio Marsili Duccio Marsili